Il nostro viaggio prosegue insieme a Matteo Campora, assessore all'ambiente del Comune di Genova, che insieme a Capitano Acciaio continua a sensibilizzare i cittadini di Genova in merito alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Mi fa piacere rincontrare Capitano Acciaio dopo un anno, ci eravamo visti al Porto Antico proprio per parlare di recupero dell'acciaio. Genova è una città che si distingue, ti posso comunicare che dopo un anno è ulteriormente cresciuta la capacità di recupero della città attraverso filiere, filiere virtuose da parte dei cittadini e da parte delle aziende. Io mi auguro che tra un anno ci potremo rivedere e potrò comunicarti ulteriori numeri e che la raccolta possa ulteriormente aumentare. Grazie. A Zena non cacciamo via niente!